La fiducia in sé stessi si costruisce attraverso l'azione. Non aspettare di sentirlo, fai qualcosa e vedrai che puoi farlo. Per sviluppare la fiducia in sé stessi, devi fare cose in cui hai paura di fallire. La fiducia in sé stessi si ottiene affrontando precisamente ciò di cui hai paura. La fiducia in sé stessi si sviluppa attraverso la pratica. Quanto più fai qualcosa, tanto più diventi bravo a farlo, e tanto più la fiducia cresce. Non c'è modo migliore per costruire la fiducia in sé stessi che fare qualcosa di cui hai paura ogni giorno. La fiducia in sé stessi non arriva quando hai tutte le risposte. Arriva quando sei pronto ad affrontare tutte le domande. La fiducia in sé stessi si nutre di pensieri positivi. Comincia a credere nelle tue capacità e vedrai quanto le tue abilità cresceranno. La fiducia in sé stessi è una fiamma che cresce più forte ogni volta che ci si mette in gioco e ci si supera. Ricorda sempre, hai dentro di te la forza, la pazienza e la passione per raggiungere ciò che desideri. La fiducia in sé stessi è la chiave per sbloccare questo potenziale. La fiducia in sé stessi è come un muscolo. Più lo eserciti, più diventa forte.